Le associazioni di categoria regionali si uniscono nella sottoscrizione di un documento congiunto riguardante la riforma della pubblica amministrazione. Si parla del riordino delle partecipazioni pubbliche e la riforma dei servizi pubblici locali. La riforma Madia punta all'efficientamento e la razionalizzazione della macchina amministrativa. In poche parole, tutto si riconduce ai tagli della spending review, che sembra trovare d'accordo tutti i sottoscriventi. Noi sosteniamo che la riforma Madia sia una buona riforma, che vada calata sul territorio in maniera intelligente. Cosa intendiamo per tale? Intendiamo che il riparto degli enti da riorganizzare sia fatto in maniera equanime su tutto il territorio regionale. Liberare risorse, evitare i duplicati di funzione e puntare ad una visione globale senza campanilismi. Ecco perché, tra gli intenti, c'è quello dell'urgenza di riordino per gli enti camerali, quello che più ha indugiato a concludersi dal suo avvio. Come categorie, naturalmente, abbiamo messo l'accento sulle Camere di Commercio, perché sono quelle che per legge vengono amministrate in qualche maniera dalle categorie produttive. Cosa è importante? Si parla di un accorpamento per cercare poi di liberare risorse, il che significa di avere potenzialità per l'investimento, di far ripartire un comparto che è molto complicato in questo momento. Esattamente questo è la finalità, che del resto è la stessa legge Madia che si è posto. Alcune competenze sono delle duplicazioni, e quindi assolutamente inutili che vanno ricondotte ad un unico centro decisionale in maniera tale appunto per liberare risorse e destinare ad investimenti.